Secondo me sono belle. A me piacciono molto gli animali e per cui mi piacciono anche le nutrie. Sono proprio loro, le nutrie. Protagoniste al loro malgrado dell'estate lecchese, sono originarie del Sud America e sono state importate in Europa nella prima metà del secolo scorso per l'utilizzo del loro manto in pellicceria. Ora si trovano sulla pista ciclabile tra Pescarenico e Rivabella. Ad alcuni lecchesi piacciono. Non danno fastidio, stanno lì, brucano, sono tranquille, non fanno fastidio a nessuno, anzi se stanno vicini scappano. Altri invece le considerano brutte ed infestanti. Non mi piacciono per niente, anzi so che fanno dei danni, quello sì, di conseguenza non mi piacciono e poi anche a vedersi non sono proprio belle. Sembrano dei topi, dei toponi. Ma ti piacciono queste nutrie? No, sinceramente no. Come mai? Mi fanno un po' schifo. Lasciate andare poi in questo modo, si riprodurranno in un modo non controllato, sarà poi un disastro sul nostro lago e sulle nostre rive. Ho visto poi delle esperienze in altri posti dove c'è la distruzione delle rive, degli argini del fiume. Però sono parecchie e molti di più di queste. Però col tempo probabilmente arriveranno al gruppo di quarta. Sarebbe meglio eliminarle e mangiarle. Addirittura? Che creano dei grandi danni e basta. Oppure anche la sterilizzazione, ma penso che sia una cosa abbastanza difficile, no? A cosa somigliano? A topi grandi, molto grandi. A criceti.